Il seminario di Personal Empowerment, che significa potere personale, è nato dall'esigenza che abbiamo di rieducarci, se vogliamo il disimparare alcuni aspetti della vita che abbiamo imparato e soprattutto iniziare ad imparare quegli aspetti invece che sono essenziali per noi per funzionare bene in questo mondo. Parliamo dell'intelligenza emotiva per esempio, che è uno degli aspetti più importanti, tra l'altro è l'elemento di successo delle persone che hanno dei ruoli importanti nella vita. Poi parliamo dell'immaginazione, Einstein diceva che l'immaginazione è più importante della conoscenza, ma non abbiamo mai vissuto un corso di immaginazione a scuola. Poi c'è il proposito della vita, che girando un po' per il mondo in quattro continenti mi sono reso conto che pochissime persone hanno un proposito di vita e questo è uno degli aspetti più importanti, è quello che ci permette di navigare la vita con consapevolezza e quindi ci sono molti altri elementi che sono talmente importanti per essere più efficienti nella vita, per essere più consapevoli, per avere più capacità di capire decisionale per esempio, che non ci sono mai stati insegnati, anzi che abbiamo soppresso in alcuni casi come per esempio le emozioni. Questa è un'opportunità importante per, se vogliamo, ritornare a scuola per le persone che non sono più in età scolastica e invece per cambiare il sistema scolastico ed inserire degli aspetti estremamente importanti come quello della programmazione. Noi siamo stati programmati da 0 a 6 anni praticamente e non conosciamo nemmeno la nostra programmazione, eppure ci influenza completamente nella vita. Infatti dal 95 al 99% di tutte le nostre azioni e di tutte le nostre esperienze proviene da questa programmazione che ci è ancora sconosciuta. Quindi l'obiettivo qui è di iniziare a cambiare il sistema educativo e dare la possibilità alle persone di conoscersi meglio per poi essere più forti ed avere più opportunità nella vita, essere più creative e aiutare se stesse e agli altri a crescere in maniera sana, in maniera determinata, essendo anche oneste con se stesse e con gli altri. Sono offerta di coordinare volentieri questo corso per il professore Formica e in maniera da poter offrire a Palermo questa opportunità di una prima approccio su questi temi che non erano fino ad oggi mai stati trattati e offrire a un gruppo di amici e di insegnanti illuminati, così li abbiamo definiti, l'opportunità di ascoltare questi temi, di riflettere, di prendere degli spunti per la creazione di un movimento sia personale di cambiamento che anche di cambiamento della società, della cultura, del sistema scolastico. Ho raccolto un piccolo gruppo oggi perché siamo comunque ospiti di un posto che era abbastanza piccolo e non ci consentiva di raggiungere maggiori numeri ma penso abbastanza espressivo di varie parti della società palermitana e mi auguro che questo sia il primo stimolo per poter poi creare dei corsi sia per il sistema educativo sia anche per alcuni dei temi che tratterà oggi il professore riguardano anche business management e digital detox e quindi anche per aiutare gli uomini, persone che sono impegnate nel mondo degli affari del business a migliorare se stessi e a migliorare il proprio business. Grazie. Grazie.